Fai la scelta giusta. Scegli i nostri prodotti freschi, i sapori tradizionali, il servizio cordiale e le specialità più gustose. Una cucina che esalta davvero i sapori, rendendo ogni piatto un'esperienza unica. Ristorante con specialità di pesce, l'arte della cucina fatta con ingredienti scelti, con chef napoletano, un contesto accogliente, il menu internazionale, il pesce crudo e cotto. La buona pizza fatta da un ottimo pizzaiolo siciliano? Rosticceria. A Melito Porto Salvo, in via Lembo 73, in un ambiente curato ed accogliente. Pizzeria Il Bello della Vita. Telefono 339 81 77 101. Chiamaci per ogni tua esigenza. Saremo ben lieti di offrirti tutta la nostra esperienza per rendere ogni tua ricorrenza un giorno unico.